Servizi, opere pubbliche, manutenzione e sicurezza del territorio. L'amministrazione di Penna Sant'Andrea, guidata dal sindaco Severino Serrani, traccia un bilancio delle principali attività e risultati amministrativi conseguiti a due anni dal suo insediamento. In questi due anni abbiamo lavorato duro e grazie alla collaborazione di tutti i componenti dell'amministrazione comunale siamo riusciti a raggiungere dei discreti risultati. Un obiettivo importante è stato l'avvio della raccolta differenziata con il sistema porta a porta ma Penna Sant'Andrea ha anche consentito di abbassare la Tari, la tassa sui rifiuti. Per quanto riguarda la sicurezza abbiamo installato un impianto di videosorveglianza al parco giochi nelle piazze principali del paese e davanti alle scuole. Abbiamo riqualificato l'area ludica lungo il viale delle rimembranze ed effettuati importanti interventi di riqualificazione al parco giochi di Valvomano. A breve inaugureremo una nuova area ludica in frazione pilone proprio alla porta della riserva naturale. È stata riqualificata la palestra e a breve partiranno i lavori per la riqualificazione dell'impianto sportivo di Viacesi grazie a un finanziamento che abbiamo ottenuto direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di 515 mila euro. Importante è stato anche l'ingresso del nostro paese nel distretto turistico del Gran Sasso e nel percorso turistico religioso la Valle delle Abbazie perché Penna non ha soltanto la riserva ma ha anche importanti monumenti come per esempio il Borgo Storico di Capsano, tante chiese e l'intervento più importante è stato fatto sulla chiesa di Santa Giusta chiusa da 50 anni che affonda le sue radici addirittura nell'Alto Medioevo. Finalmente quest'anno partiranno anche i lavori, tante famiglie, tanti avranno la rete in rigua proprio nella frazione Valvomana che è attesa, ripeto, da 30 anni. Il Comune inoltre ha emanato un avviso pubblico per la formazione di una graduatoria di personale da impiegare i lavori accessori retribuiti con buoni lavoro per le attività di pulizia e manutenzione delle strade, del patrimonio culturale, del verde pubblico e i lavori di emergenza.